Buonasera a tutti Buonasera a tutti Buonasera a tutti Grazie 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 Buonasera Grazie 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 Basta un pulsante, premuto per errore. Che, 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 il gioco è terminato. Nella tua tasca c'è un settore. Se sei fortunato, sei, se sei fortunato, sei, se sei fortunato. Il risultato progressivo è un'attività di un pubblico d'urso. Il potere è vietato ai minori e può causare di prevenza tecnologica. Attenzione, non realizzare le effetti desiderati a cura. Ti prego di tenere fuori dalla portata di tutti. Giocca! Il risultato mio! Obbligazioni, il tuo valutio, lo sconto facile è giù sopproché. All'universo, un paziente aspetto, mentre vorra c'è tutto, non giù mi la tua fretta. Che, 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 il gioco è terminato, it's a going to play. Che, 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 il gioco è terminato. nella tua tasca c'è un gioco. Non se sei fortunato. Non se sei fortunato. Grazie a tutti Grazie Andrea Perrotta, Inresistibile Distante Il prossimo brano è una cover di un gruppo che amo particolarmente che sono i Pink Floyd, si intitola Confortably Love Grazie a tutti 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 Grazie a tutti